Bene amici del canale, oggi vi farò vedere come aggiornare il browser Opera. Per far questo aprite il browser Opera. Cliccate in alto a sinistra sul logo O di Opera. Cliccate su Guida in linea e poi su Info su Opera. Come vedete il mio browser Opera è aggiornato. Bene, alla prossima occasione e un saluto da Pietro D'Aprive. Ciao!